Una full immersion di due giorni a Brindisi per fare il punto sulle malattie epatiche e confrontarsi sulle novità in campo terapeutico e conoscitivo per le giornate epatologiche e brindisine promosse dal dottor Pietro Gatti. Tra i temi trattati alcune forme di epatiti che conducono all'obesità e alle patologie legate ai nuovi stili di vita, oltre alla necessità messa in evidenza da questo importante congresso di un ruolo centrale di Brindisi dal punto di vista anche internazionale e con l'attenzione agli aggiornamenti degli strumenti tecnologici, resa ancora più rapida dalla pandemia. La paura è stata grande anche da parte degli amministratori e tutti quanti in maniera univoca si sta vedendo sono compatti nel trovare le risorse per andare avanti. In questo momento le esigenze sono legate al riconfrontarsi in presenza, perché per due anni purtroppo ci siamo confrontati attraverso video e alle volte non vengono trasmessi in maniera adeguata le informazioni, riconfrontarsi in presenza, arrivare a delle sintesi per dare il giusto trattamento ad ogni epatologia. È un momento di innovazione tecnologica, di innovazione di nuovi farmaci e dobbiamo essere pronti a utilizzare il meglio per i nostri pazienti. Brindisi demograficamente è svantaggiato nel senso che numericamente i medici sono meno numerosi rispetto ad altre realtà, deve sicuramente cercare nell'attrattività che si concretizza nell'adeguamento tecnologico e nella possibilità di erogare prestazioni di qualità di diventare attrattivi e gli eventi di questo tipo sono diretti proprio in quel senso.